Chi cerca suole mai trovare certezza, la poetica di Osvaldo Licini, Emilio Isgroi, una conversazione a più voci tra arte e letteratura, evento che fa parte della programmazione dei public program della mossa Osvaldo Licini, che è un evento di folia totale mi solevi a cura di Luca Massimo Barbero alla collezione Peggy Guggenheim fino al 14 gennaio del 2019. Oggi ascolteremo dunque delle voci molto differenti che si alterneranno offrendoci nuovi punti e nuovi spunti e visioni dell'opera e dell'artista Osvaldo Licini. Ringrazio perciò i relatori Stefano Papetti, direttore della Galleria Civica di Arte Contemporanea Osvaldo Licini a Ascoli Piceno, Massimo Raffaelli, filologo e critico letterario e Daniele Simoni, direttrici del centro studio Osvaldo Licini, Montevidan Corrado. Questi tre grandi studiosi dialogheranno con il maestro Emilio Isgroi, artista che ha sempre guardato con passione e interesse all'opera e alla poetica liciniana. Ringrazio inoltre Luca Scarlini, giornalista e scrittore, che saprà moderare con grande accuratezza e brio questa serata. Naturalmente stasera siamo in uno dei luoghi simbolo dell'Università Ca' Foscari che con sempre grande disponibilità ci ospita permettendoci di dare il benvenuto a un pubblico molto numeroso che segue sempre con partecipazione e entusiasmo i nostri public program. Grazie di cuore a Ca' Foscari e anche naturalmente al nostro pubblico. Questo non può che farci un enorme piacere perché riteniamo che gli approfondimenti intorno alle mostre siano veramente un arricchimento alla comprensione del programma espositivo, aprendo a riflessioni attuali e originali. Salutiamo Flavio Gregori, prorettore alle attività e rapporti culturali di Ateneo, che purtroppo stasera non ha potuto essere presente ma che manda i suoi saluti. Ringrazio quindi la Fondazione Araldi Guinetti di Vaduz per rendere possibile il calendario delle nostre attività collaterali. A questo punto non vorrei rubare troppo tempo, credo che debbano essere chiaramente i nostri relatori le vere voci di questa conversazione, ma chiaramente da direttrice devo fare la mia parte, il mio lavoro e dunque se non avete ancora visto la mostra vi aspetto alla collezione Peggy Guggenheim per visitare la retrospettiva su Licini e saluto e ringrazio di nuovo Luca Massimo Barbero che è qui con noi stasera in prima fila. I nostri public program continueranno giovedì 29 novembre, dunque tra pochissimo, con un doppio incontro con Mattia Patti per scoprire in musa i segreti e gli stili di questo pittore straordinario che è Osvaldo Licini e si concluderanno, scusate, l'8 dicembre con l'appuntamento Poesia squisita, una giornata dedicata alla poesia che prende proprio ispirazione dalle poesie di Licini e dalla tecnica surrealista del cadavere squisito. Sarà sicuramente un appuntamento molto divertente. Passo ora la parola a Luca Scarlini. Grazie, buona serata. Benvenuti a tutti, buonasera. Ci occupiamo di Osvaldo Licini da molti punti di vista diversi. A me il compito di fare da, diciamo così, cucitore delle molte visioni che di Licini verranno date a partire da svariati punti di vista e momenti di associazione e anche di dire qualche parola brevemente sulla mostra Chi cerca suole maestro la certezza, curata da Luca Massimo Barbero presso Guggenheim, che di Licini mette in evidenza una serie di elementi abbastanza meno visti nelle precedenti occasioni di vedere l'opera di questo grande artista, anche in correlazione con altri artisti che hanno incrociato le sue traiettorie come ad esempio Fontana o Melotti e anche soprattutto in questa sorta di filo rosso continuo che è la relazione con Giorgio Morandi, relazione molto complicata che va avanti per tutta la vita tra l'amicizia Giovanni da Bologna e poi i successivi di Sapori, in cui si legge in filigrana anche quella che è la grande storia dell'arte italiana del Novecento in cui certi critici come Roberto Longhi hanno stabilito certi flussi per cui alcuni artisti hanno avuto sempre rappresentanza come Morandi e altri come Licini hanno avuto vita assai più complicata. In buona sostanza, come molti hanno detto, la grandezza e l'attualità di Licini è la sua strepitosa inattualità della sua eccezionale arte e opera, gli ha permesso di essere in sintonia con se stesso, con il mondo, superando le secche e le cronache in molte occasioni dell'Italia del suo tempo. Nella mossa questo si legge molto chiaramente e molte altre cose di cui accennerò in assai brevità perché il mio compito è quello di essere breve per costringere gli altri con la frusta a stare dentro i 20 minuti. È un ruolo orrendo quello del vigilo urbano ma d'altra parte qualcuno deve farlo. Un minuto prima dei 20 farò un messaggio tipo Lugubre Civetta Leopardiana, visto che Leopardi sarà un altro dei referenti citati e dopo lo scoccare dei 20 minuti seguiranno naturalmente una serie di esorcismi, fatture e altre cose che non sto a dirvi per non rovinare la sorpresa. Iniziamo da Massimo Raffaelli che è critico letterario, scrittore, che molto si è occupato, si potrebbe dire, lo dico io male, dell'eredità marchigiana del Novecento, una serie di autori marchigiani importantissimi, partita da Paolo Volponi su cui ha scritto opere critiche fondamentali, ma anche Franco Scataglini, che è un poeta importantissimo, forse negli ultimi tempi meno frequentato, ma che negli anni 90 ha avuto anche un'ampia discussione intorno a lui, che ci racconterà di Licini, scrittore di fatto, i racconti di Brutto, l'ambiente futurista bolognese e la giovinezza di Licini a fianco di Morandi e degli altri protagonisti. Prego. Microfono. Buonasera a tutti e veramente grazie di cuore alla Fondazione Guggenheim di questo invito che ho preso come un onore davvero profondo, fatto a me stesso, tanto più che parliamo in un luogo altrettanto bello e persino un po' schiacciante. Oltretutto io sono un abusivo, come ha appena detto Luca Scarlini, perché mi occupo di scrittura e sono un semplice visitatore di mostre, vecchio appassionato d'arte. Oltretutto formatomi a Bologna, che è stata la città del giovane Licini, ma anche della scuola di Roberto Longhi, che è in qualche modo la re fulè per tanto tempo. Licini arriva a Bologna negli anni immediatamente precedenti, la prima guerra mondiale, fa una vita pre-parigina di Bohème nel vecchio ghetto di Bologna, in via dell'Inferno, che sta a 50 metri da piazza di Porta Ravegnana, quasi sotto le torri. I suoi due principali amici, c'è una foto che li rappresenta, Licini è quasi irriconoscibile, sono appunto Vespignani e Giorgio Morandi, che non ci immagineremmo ora per allora nella veste tanto meno fauve, ma bohème, insomma, di quegli anni. Non dimenticate che per tutta la vita, per quanto l'iconostasi morandiana sia, diciamo, inscalfibile, il libro da comodino di Morandi è stato di un vero fauve passato da Bologna nel suo girovagare che è Dino Campana, nei canti orfici, mentre ce li aspetteremmo magari sul comodino di Licini dove c'era invece Leopardi, di cui ci parlerà poi Stefano Papetti. La Bologna di quegli anni è una città abbastanza complessa da leggere. Intanto è una città che ci immagineremo ultraclassicista, insomma, l'ultimo grande maestro di questo ateneo plurisecolare è Giosuè Carducci, ma Giosuè Carducci è il primo poeta che in Italia, all'anima del suo conclamato classicismo, ha portato Baudelaire. È il primo che lo ha tradotto, è il primo anche che lo ha iniettato dentro la sua stessa poesia. E poi Bologna è la città di Wagner, è la città in cui Verdi ha subito i tonfi più clamorosi, quindi ci sono delle inquietudine, voglio usare la parola che usano oggi gli americani, ultramoderniste, di modernismo estremo, che insomma rendono in qualche modo più acclimatato questo incipit di Licini, che è un incipit letterario che dura una sola stagione, perché io mi occupo dell'antefatto di Osvaldo Licini. Dura una sola stagione e noi ne siamo venuti a conoscenza, Licini come quei grandi capi indiani amavano dissimulare, come fanno tanti artisti, dissimulare le proprie tracce, spesso anche le proprie opere, insomma, riducendoli a palinzesti più o meno, per scrutabili. L'unico testimone di questo suo periodo avanguardista, futurista, vuol dire in Italia, dal 1909, Licini è appena arrivato a Bologna e studia a quella che oggi si chiama Accademia di Belle Arti, è un quadernetto che lui manda un poligrafo, diciamo futurista, allora relativamente famoso, Francesco Balilla Fratella, nell'estate del 1913. Ora, l'unico testimone cognito, come si dice in filologia, noi lo abbiamo nel libro che ha riaperto in qualche modo il caso Licini in l'editoria italiana, Errante erotico-eretico del 74, che è un libro meritorio, ma diciamo almeno sotto il punto di vista strettamente filologico, abbastanza avventuroso e nella descrizione dei materiali e presumo anche nella stesura a stampa di questi stessi materiali. In ogni caso, l'unica fonte che abbiamo del Licini futurista è questo quadernetto mandato a Francesco Balilla Fratella, siamo nell'estate del 13, la data di cui si tratta con ogni probabilità di uno di quei quaderni che i pizzicagnoli e i macellai tenevano neri in ottavo con la bordatura rossa, no? E che lui tra Montevideo, Ancorato e Bologna avrà trovato come materiali persino ovvi e contiene cinque racconti di cui parleremo tra un attimo. Ma il 13 è un anno molto particolare. Certo, questi giovani bolognesi stanno nel vento del futurismo, il manifesto è ormai uscito da quattro anni e sei mesi e però Licini, sempre detto oggi per ieri, poco o punto ha a che fare anche da giovane con il marinettismo, cioè con l'estetica delle macchine, della velocità, insomma con quella che si chiamerà poi l'avanguardia permanente, il macchinismo, la grande città, eccetera. C'è una variante invece del futurismo che gli è molto molto più vicina e data proprio da quella del 1913, in gennaio esce la Cerba, che è la rivista dei teppisti futuristi, il cui orizzonte d'attesa non sono la città moderna e industriale, il dinamismo, la macchina, eccetera, ma atteggiamenti che poi si sarebbero detti con una parola così molto semplice, vulgata, eccetera, di tipo trasgressivo. Addirittura nel primo numero di la Cerba c'è un elogio della prostituzione, in un altro numero c'è un elogio della lussuria, tutte tematiche di tipo scatologico, straordinariamente volgare, come vedete, che sono molto vicine alla sensibilità del giovanissimo Licini. Questa vicenda non ha praticamente ancora la bibliografia, l'edizione, l'unica edizione, diciamo, di selettiva di la Cerba, risale addirittura all'inizio degli anni Sessanta, da Inaudi per la cura di Romano, Escalia, un'edizione storica, ma inevitabilmente datata. Chi ne ha ricostruito, specie per la figura di Italo Tavolato, che è una specie di papini ex legge, no? Mondato da tutta la sua profondo teppismo e ipocrisia, più felicemente trasgressivo. E niente meno uno scrittore, che purtroppo non c'è più, Sebastiano Vassalli, che si imbatte in questo Italo Tavolato, che in realtà era Magna Parz di la Cerba, studiando Dino Campana, per la famosa biografia del centenario, la notte della cometa, e pubblicò una specie di paralipomeno, l'alcova elettrica, che racconta la redazione di la Cerba come nessun filologo a tutt'oggi è riuscito a fare. È probabile che quel tipo di tematica così gravemente scatologica abbia in qualche modo divertito in senso etimologico, Svaldo Licini, che manda Balilla Pratella per la stampa, né a quanto si sa sicura di riavere indietro questo quaderno, probabilmente codice unico, non ce ne sono né apografi, tant'è vero che venne pubblicato nel 74, grazie al fondo di Balilla Pratella, e pubblica questi racconti di brutto. Nel libro si chiamano racconti di brutto, in realtà pare che la sovracoperta del quadernetto è i racconti della merda. È vero che è una parola che Licini poi smaltirà in qualche modo nel suo coté francese come una specie di apotropia, ma lì insomma è materiale di deiezione organica, propriamente detto. I racconti sono micro racconti, brevissimi, non superano le due pagine a stampa in media e hanno questi titoli. La passeggiata sentimentale, il cuore in mano, la nottata sentimentale, la conversazione sentimentale, la merda che fuma. A parte l'ultimo titolo che è sfacciato e che Licini avrebbe voluto invece come vero e proprio titolo, gli altri colpiscono subito per la materia, diciamo così, per quella che si chiama in retorica l'antifrasi, cioè vengono bruttate, parodizzate le parole della bigiotteria sentimentale. Una volta la parola cuore e per tre volte viene sconciato l'aggettivo sentimentale. Licini evidentemente attraverso la cerba e quel che può viverne attraverso alcuni autori che si stanno formando a Bologna, tra la voce rivista di un tardo romanticismo inquieto che molto forzosamente si potrebbe definire avanguardista. A Bologna vive Giuseppe Raimondi, per esempio, che sarà poi un biografo, un amico di Morandi, eccetera, altre figure che soprattutto succhiavano da quello che veniva dalla letteratura francese. Insomma, c'è un clima che, la dirò in un attimo, con un titolo di Baudelaire, della perdita d'Aureola. Perd'Aureola è uno dei testi, dei petit poemas prose più belli e a un certo punto c'è proprio il tema della sconsacrazione. Mona Reola glissé dalla fange di Macadam. La mia Aureola è caduta nel fango del Selciato, questa città che si chiama Lutezia, quindi già abantico era piena di fango. E questo tema della profanazione, della sconsacrazione, della perdita di sacralità da parte dell'artista è nel vento di una cultura che anche in Italia avviene facendosi di senso comune. Ma per tornare un attimo, prima di leggervene solo un pezzetto, proprio per sentire il mood, il sound del giovanissimo Licini, mi viene in mente che in quello stesso anno, per non smarcarlo troppo da Marinetti e per non dare ragione a Papini, che è stato il primo a dire, un conto è il marinettismo e un conto è il futurismo, è vero anche che poco prima di quell'estate, in cui questo ventenne redige i racconti di Bruto, non de plume, da non trascurare, perché certo è il tirannicida, ma Bruto per etimologia vuol dire grezzo, brutale, rozzo, volgare, aggressivo, c'è un'area semantica abbastanza chiaro. Bene, nella primavera del XIII è uscito il manifesto tecnico della letteratura futurista, dove Licini, scrivente più che scrittore, questi testi hanno valore documentario, diciamo di antipasto alla sua vita, al suo percorso, in sé hanno un valore letterario molto modesto, sono quasi delle prove di penna, beh è uscito il manifesto tecnico della letteratura futurista, che è molto meno frontale, unilaterale di quello che abbiamo letto tutti a scuola, dove a un certo punto, e mi piace pensare che qui il giovanissimo Licini abbia trovato qualcosa, si parla di mancanza di categorie di immagini, cioè che uno scrittore futurista non deve pensare secondo le artiche retoriche di alto, medio e basso, tragico, leggero e comico. Non ci sono categorie di immagini, nobili o grossolane, eccentriche o naturali, l'intuizione che le percepisce non ha partiti presi. Beh, da pochi mesi Palazzeschi ha scritto lasciatemi divertire, non voglio citare in presenza di grandi artisti storici dell'arte gli Arlecchini, i saltimbanchi di Picasso, il più grande, forse il più grande critico letterario vivente, Jean Starobensky, ha scritto un libro fondamentale, ritratto all'artista saltimbanco. No, c'è tutta una zona metaletteraria o extraletteraria, non solo letteraria che ne ha parlato. Io vi voglio semplicemente leggere un passo della nottata sentimentale, è un incontro carnale con una ragazza. Lo stile è, diciamo, paratattico, come si dice, molto scandito, molto ritmato. Le figure retoriche sono quelle appunto dell'anaforo e della ripetizione, oppure una figura chiave per quell'area, diciamo, culturale che è quella della enumerazione caotica che aumenta l'effetto di parodia. Bruto ha un amante che fa la puttana, anzi la cocotte, frequenta gli aristocratici e guadagna molto. Bruto si fa mantenere, lei si è innamorata di lui per capriccio. Una sera Bruto andò a cercarla al solito posto, le fece il solito segno, passerò la notte con te. Dodò con una scusa si liberò da quelli e lo raggiunse sulla porta e poi va avanti. Chissà un po' il francese immagina anche che nel nomignolo Dodò ci siano ancora delle allusioni apertamente oscene. La domanda è questa, me la sono fatta, io ho incontrato per un motivo abbastanza sordido, ma l'Italia, dico sempre il paese delle prescrizioni, questo reato è stato prescritto. Trent'anni fa un mio amico che faceva l'amministratore, non era più giovane, si laureò in una illustre università e il professore gli diede una tesi su un argomento che dal punto di vista documentale non era, sugli iscritti di Vicini. Bene, quella tesi l'ho scritta io in realtà, è stata firmata da un altro e l'ho incontrato appunto per motivi abbastanza sordidi e inconfessabili. Mi sono chiesto da grande poi divenuto appassionato di Osvaldo Licini cosa centrasse tutto questo. Papetti vi spiegherà che l'autore letterario di Licini che affinerà in maniera persino sofisticata la sua cultura letteraria a niente meno leopardi, non le brutture papiniane. Mi sono chiesto, beh, la mia risposta che è puramente indiziaria, sì è una semplice ipotesi da lettore è che dovesse liberarsi dei propri liquami letteralmente, come se si dice passasse le acque, no? Tutto quel magma se ne liberasse una volta per sempre, tant'è vero che l'acronimo MERD si trova ancora negli anni 30 ma già in qualche modo sublimato, obnubilato eccetera. Evidentemente lo riteneva necessario come ha ritenuto necessario per almeno altri 40 anni non occuparsene più e non richiamarli più indietro. Concludo con l'immagine che mi è venuta, con la definizione che in questo, che non è stata fatta per Licini ma secondo me in questo caso calza al caso di Licini giovanissimo che un grande critico, un altro grande critico e scrittore che non c'è più da molto tempo, Maurice Blanchot, diede una volta a proposito di tutt'altre scritture, disse che comunque e sempre la scrittura, anche la più semplice, è una passione che simula un'azione. Beh, è fin troppo facile, mi viene da dire che la azione per Osvaldo Licini d'ora in avanti sarebbe stata la pittura. Vi ringrazio. Bene, molte grazie a Massimo Raffaele che ringrazio per il suo cronometro perfetto, è durato esattamente 20 minuti meno due secondi quindi avrà dei cioccolatini all'uscita per questo suo contributo alla rapidità della sua re. Naturalmente mi permetto di fare anch'io due giochini brevissimi che hanno a che vedere col teppismo futurista e non futurista con l'emmonio boreo o boreo a seconda di come si voglia dire del dango soffici che esce un annetto prima del XIII e poi dopo il famoso diario del teppista di Ottone e Rosaica esce invece più tardi nel XVIII che ci racconta un mondo molto agitato tra Firenze e Bologna. Tra l'altro recentemente c'è stata una mossa sul futurismo a Bologna in cui di Balilla Pratella veniva presentata forse la cosa più importante che è lo spartito di musica futurista edito da Bongiovanni con la famosa copertina di Boccioni. La musica di Balilla Pratella è inascoltabile, io ero presente alla ripresa fatta da mio maestro Silvano Bussotti e l'aviatura Edro a Lugo di Romagna, la gente tentava il suicidio dopo i primi 20 minuti e Silvano aveva fatto un capolavoro di spettacolo però c'erano delle eliche in partitura e poi un motore, il fumo dall'orchestra, un orchestrale rischiò quasi di morire e il maestro Gravazziani morì due giorni dopo, non riuscì mai a dirigere la seconda. Musica futurista letale, dopodiché Balilla Pratella passò dal futurismo ai canti romagnoli. Qualcuno mi spiegherà questo teppismo di ritorno che va verso cose molto grevi, tramarradi e così via. Ci spostiamo verso le Marche invece di nuovo dalla Bologna dove Licini a Proda, ma Licini naturalmente già sapeva Parigi data la relazione della sua famiglia e Stefano Papetti ci racconta la biblioteca di Licini. Se c'è un artista che ha lavorato nella letteratura, traendo nell'infa in modo molto ampio e articolato, non per caso naturalmente nelle sue opere ci sono parole che hanno un valore magico, cabalistico, lo si può intendere come si vuole, vanno reinterpretate, unite, crittografate, decrittate, ma naturalmente la biblioteca d'Osvaldo Licini era una persona che aveva scelto di vivere in un luogo molto piccolo, ma di restare sempre in comunicazione con il mondo molto grande, colui che era abbonato a Ducumont, la rivista più d'avanguardia, più estrema degli anni surrealisti, Georges Bataille e tutto quello che massimamente si poteva trovare tra antropologia e surrealismo, naturalmente Leopardi, di cui l'infinito tra poco avrà celebrazione del bicentenario, è un punto di riferimento fondamentale, genius loci si potrebbe dire, per Licini. Di questo parla Stefano Papetti che altrettanto è intimato di 20 minuti. Grazie. Bene, è abbastanza imbarazzante, lo voglio condividere con tutti, il fatto che io sia qui a parlare di Licini per due motivi. Il primo è legato alla mia formazione, essendo stato per 15 anni allievo di Mina Gregoria a Firenze, è chiaro che appartengo a quel cotello onghiano che è stato ben indicato come il principale responsabile del nascondimento di Licini quando ancora era in vita. I miei primi testi sono usciti su Paragon, che è la rivista fondata da Longhi e questo è il primo motivo di imbarazzo, ma si supera perché poi stiamo parlando del passato remoto. Il secondo motivo è legato al fatto che io in realtà non sono uno studioso di Licini. Io di Licini mi occupo in maniera terra-terra, cioè faccio in modo che l'amministrazione comunale di Ascoli ogni anno trovi 80 mila euro per garantirsi la proprietà di 70 opere di Licini e che soprattutto tenga aperta la Galleria d'Arte Contemporanea a lui intitolata. Quindi è una presenza diciamo molto legata invece ad altri aspetti, quella che mi vede oggi presente ed è legata al fatto che quando appunto nel 2008 ad Ascoli si celebrò il cinquantesimo anniversario della morte di Osvaldo Licini con una mostra appunto doppia tra Montevideo-Conrado appunto ed Ascoli, avendo dovuto come direttore dei musei di Ascoli scrivere un testo, mi sono occupato, dovuto, no non ho usato il termine in modo improprio, avendo dovuto scrivere un testo, ho pensato di occuparmi dell'unica cosa che mi pareva potesse essere in relazione con Licini in base ai miei studi precedenti che appunto avevano riguardato gli interessi di Leopardi per le arti figurative di vedere invece gli interessi letterari di Licini verso Leopardi, avendo avuto una certa frequentazione anche molto approfondita con lo Zibaldone di Leopardi dove appunto spesso il poeta recanatese fa riferimenti alle altre figurative, agli artisti, ho pensato che potesse essere interessante cercare un parallelo e effettivamente quando Licini proprio qui a Venezia dove era venuto con Marchiori firma il registro di una osteria a Burano nel 1938 dove avevano fatto colazione e lui si definisce errante, erotico, eretico, questo poi è il titolo dato al testo del 74 ma era Licini che si era attribuito questi tre aggettivi, ho riflettuto sul fatto che effettivamente questi tre aggettivi sono perfettamente calzanti anche per Leopardi, pur essendoci una distanza sia cronologica che siderale dal punto di vista sociale tra l'aristocratico Leopardi e il meno aristocratico Licini, però certamente gli aggettivi di errante, erotico, eretico che si attribuisce Licini sono aggettivi che forse anche Leopardi avrebbe scritto accanto al suo nome se qualcuno gli avesse detto di firmare in un qualche registro di un ristorante di Roma o di Firenze o di qualche pasticceria napoletana dove amava andare. L'aggettivo appunto errante è particolarmente vicino all'esperienza biografica di tutti e due gli artisti. Leopardi è sempre stato combattuto dalla volontà di lasciare appunto il natio Borgo Selvaggio che poi era selvaggio ma fino a un certo punto e ha convinto finalmente i genitori a lasciarlo andare a Roma ospite dello zio Carlo Antici e poi tutta la sua vita è stato un continuo muoversi tra vari centri dell'Italia ma in ogni lettera che mandava al padre Monaldo o alla sorella Paolina, le lettere al padre Monaldo sono pubblicate in un volume intitolato Il Monarca delle Indie, si avverte il rimpianto per non essere arrecarati. Lo stesso Licini nei suoi numerosi viaggi, prima nei suoi soggiorni parigini, poi nei viaggi fatti nel nord Europa dopo il suo matrimonio nel 26 con l'abitrice svedese Nanni Hellstrom, quando racconta di questi viaggi ai suoi amici marchigiani che certamente con invidia pensavano a Licini che passava da Berlino, da Monaco per arrivare su su fino in Svezia, certo enumera le bellezze artistiche e paesaggistiche che vede però c'è sempre il rimpianto, il ricordo di Montevidoncorrado piuttosto che di Grottazzolina, si intreccia sempre appunto nell'ammirazione per i luoghi esteri che sta visitando, il ricordo per quelli marchigiani che ha lasciato e dove nel caso di Licini poi ritornerà stabilmente. Quindi tutte e due erranti, tutte e due erotici, non nel senso ovviamente letterare del termine quanto animati da una grande passione letteraria nel caso di Leopardi, letteraria e legata alle arti figurative da parte di Licini. Ora in un passo dello Zibaldone, Leopardi parlando proprio di questo aspetto, cioè della passione che anima i grandi e sta parlando di Pope e di Canova, quindi due personaggi molto distanti nel tempo, due personaggi anche inconciliabili dal punto di vista biografico, dice che appunto sul loro fisico Pope e Canova portavano dei segni dovuti appunto al super lavoro. Canova aveva la cassa toracica deformata dall'uso del trapano con cui appunto si aiutava per modellare le sue sculture. Se ne sono accorti soltanto quando qui a Venezia hanno fatto il rilievo sulla salma di Canova, nessuno se ne era mai accorto perché lui mascherava con gli abiti questa deformità. E dice appunto Leopardi, pensando anche alle sue deformità evidentemente, dice che tutti i grandi che appunto si impegnano strenuamente nello studio, nella loro attività cerebrale, recano, intellettiva, recano dei segni nel loro fisico, come la spada dei grandi condottieri alla lama segnata dal fatto di essere continuamente tirata fuori e rimessa nel fodero. Beh, questo discorso vale anche per Licini. Licini appunto, anche dalle fotografie che noi abbiamo, nonostante sia morto tutto sommato abbastanza giovane, aveva il fisico segnato non soltanto appunto dai postumi della ferita ricevuta durante il primo conflitto mondiale che lo rendeva claudicante, ma come dicevamo oggi con Daniela Simoni che ha trovato un Licini vivente ieri che stava visitando la mostra al Guggenheim, se non altro come aspetto fisico, era appunto completamente segnato fisicamente da una condizione che gli impediva di camminare con libertà, di avere appunto questo atteggiamento del corpo sempre leggermente piegato, lo si vede anche molto bene nella fotografia in cui riceve il premio qui alla Biennale del 58. Quindi questo è un altro aspetto che lega appunto Licini e Leopardi. E poi l'altro aspetto appunto che li accomuna è il fatto di essere ambedue eretici, ovviamente non dal punto di vista religioso, non è quello che ci interessa in questo caso, ma da un punto di vista dei rapporti col contesto culturale in cui vivono. Leopardi appunto si muove tra neoclassicismo e romanticismo con totale indipendenza rispetto agli uni e agli altri. E anche Osvaldo Licini che pure ha avuto l'opportunità, prima a Bologna, grazie agli anni trascorsi all'Accademia, di avere incontri anche con personaggi eminenti del mondo letterario e poi a Parigi dove ha conosciuto tutti, da Modigliani a Picasso eccetera, però non si è mai uniformato a nessuno dei movimenti o a nessuno degli artisti con i quali ha avuto rapporti e nei confronti dei quali ha dimostrato interesse. Manifestando sempre la sua totale indipendenza, è abbastanza paradossale vedere Licini presenti alle mostre organizzate dalla Sarfatti per 900 italiano, eppure c'era, certo in una posizione di totale autonomia come sarà autonomo rispetto alle posizioni del milione, pur essendo stato lui uno, non voglio dire dei precursori, ma dei primi a praticare l'arte astratta. Quindi quanto Leopardi è stato indipendente dai modelli letterari del suo tempo, pur conoscendoli in maniera molto approfondita, così lo è stato Licini dal punto di vista artistico negli anni appunto cruciali tra gli anni 20 e gli anni 30 e poi successivamente. E questo certamente ha fatto di lui un artista che anche per la scelta di vivere a Montevideo Corrado in una condizione di oggettivo isolamento, ma è una sua scelta ovviamente, avrebbe potuto magari continuare a vivere a Parigi, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a farlo anche perché poi una parte della famiglia stava a Parigi, quindi c'erano anche degli appoggi che gli avrebbero consentito di poter continuare a vivere in quella città. Dicevo è assolutamente appunto autonomo rispetto a quello che accade intorno a lui, ma non è autonomo perché non lo conosce, è autonomo per scelta, perché appunto il fatto di essersi rinchiuso a Montevideo Corrado e avere in qualche modo anche forse violentato lo spirito più internazionale della moglie che appunto si è trasformata in una sorta di casalinga marchigiana, essendo invece una giovane svedese che prima di sposare Licini aveva avuto esperienze culturali e letterarie. Tra l'altro Nanni Hellstrom, la moglie di Licini, era venuta in Italia molto prima di sposare Licini, aveva una sorella pianista molto affermata, era stata a Capri, era stata a Roma, conosceva già l'Italia prima di venire a Montevideo Corrado con Licini, anche perché dopo aver sposato Licini credo che non avrebbe avuto modo di conoscere l'Italia se non Montevideo Corrado, perché la vita dei due era una vita tutta chiusa dentro le mura della città, anche se occasionalmente Licini magari si spostava per vedere qualche mostra come quella bellissima di Picasso organizzata dalla Bucarelli a Roma o altri luoghi d'arte. Quindi si tratta appunto di un personaggio che è difficile da proporre e da presentare, anche le iniziative espositive che sono state dedicate a lui negli anni hanno incontrato una certa difficoltà ad essere capita dal pubblico. Il grande merito della mostra che è stata organizzata qui al Museo Guggenheim non si deve soltanto alla lucidità con cui Luca Massimo Barbero ha messo insieme le opere creando un percorso filologico ma anche estremamente coinvolgente sul piano emotivo, ma anche per il fatto che il nome Guggenheim farà certamente da traino alla conoscenza di Licini, un traino che finora è mancato come del resto è mancato anche per altri artisti marchigiani più antichi di Licini che hanno scelto di vivere nelle marche appartati rispetto a quella che era la condizione del tempo. Ora che Licini fosse un buon conoscitore di Leopardi lo sappiamo innanzitutto da una serie di lettere inviate ad un poeta poco conosciuto marchigiano che si chiamava Cruto Vitali, poeta e cantante d'opera, amico di Licini, anzi quando Licini deve organizzare la prima mostra a Milano invia questo a Cruto Vitali che stava studiando da tenore a Milano ad andare a vedere la galleria per avere indicazioni su come fosse questo luogo. Quindi dicevo in queste lettere indirizzate da Cruto Vitali oltre a parlare molto di letteratura dice più volte negli anni 30 che sta leggendo rileggendo Leopardi e poi c'è una lettera pubblicata appunto in errante erotico eretico indirizzata a quello che è stato il critico più vicino a Licini che è stato Giuseppe Marchiori in cui dice esplicitamente parlando di un loro incontro avvenuto a Lendinara che è la città in cui Marchiori viveva, Montevide, Don Corrado e Recanati sono forse la stessa cosa si chiede, chiede anzi Licini in questa lettera a Marchiori, quindi evidentemente c'è da parte di Licini la consapevolezza di avere un'affinità con Leopardi, un'affinità che si coglie nei rari frammenti poetici di Licini, che si coglie nella sua biblioteca, Scarlini ha detto forse un po' eccessivamente la biblioteca di Licini è difficile da ricostruire perché in realtà non sappiamo quanto fosse vasta ed è divisa diciamo come le sue opere tra due nuclei, uno conservato dagli eredi diretti, speriamo che non arrivi anche qui una lettera dell'avvocato, di Licini a Livorno, l'altra invece nella raccolta della figlia adottiva della moglie di Osvaldo Licini, testimoni loro, che appunto fa parte del materiale che in tempi recenti è stato acquisito dal comune di Ascoli Piceno, quindi non c'è modo proprio per una difficoltà di colloquio a mettere insieme questi due nuclei, conosco di più per motivi proprio fisici per averli toccati, per averli messi in ordine, i volumi e le riviste che sono pervenute ad Ascoli Piceno, del resto è materiale che è stato studiato nel tempo appunto da Marcello Verdenelli, da Sileno Salvagnini che ha scritto un bellissimo saggio per il catalogo, Stefano Bracalente pure ci frequenta molto e sta elaborando qualcosa che ci aspettiamo di leggere da qui a breve, quindi insomma è materiale sul quale si sta lavorando. È un materiale molto vissuto, cioè si percepisce che su questi testi, a partire da un'edizione economica della storia della letteratura italiana di Francesco De Santis, Licini ha lavorato molto, li ha letti, li ha sottolineati, ha cancellato le sottolineature, ha messo pieghe negli angoli, ha lasciato segni e tracce grafiche in certe pagine, cogliendo degli aspetti anche nell'uso di termini letterari che evidentemente l'hanno appassionato, quindi non vanno visti solo i titoli delle opere, vanno proprio sfogliati volume per volume perché all'interno si percepisce di quell'autore o di quel testo qual è l'argomento che è stato di particolare interesse per Licini. E naturalmente in questa biblioteca c'è un settore diciamo leopardiano abbastanza nutrito. Del resto leggevo appunto in sintonia con quello che accade a Licini, quando negli anni 30 Licini appunto scrive al suo amico poeta Cruto Vitali che sta leggendo, rileggendo, in più occasioni lo dice Leopardi, negli stessi anni De Pisis si era fatto regalare da sua madre, che ancora appunto era in vita, tutte le edizioni dei canti di Leopardi perché evidentemente c'era una passione leopardiana che al di là di certe della conoscenza che legava De Pisis a Licini, ma anche di interessi comuni si legge appunto in filigrana nell'opera dell'uno e dell'altro. Ecco a me pare che i temi leopardiani che maggiormente si evidenziano invece nell'opera di artiste, nell'opera pittorica di Licini siano due. Innanzitutto la tipologia dei suoi paesaggi. Noi abbiamo appunto in galleria sia dei paesaggi realizzati in Francia che sono di un certo tipo, sia una serie di paesaggi, molti belli, non i nostri sono esposti qui alla mostra, che ci evidenziano il fatto che Licini dalla sua postazione appunto tra i Monti Sibillini non guarda mai il mare, che pure si vede da Montevideo Corrado. Sarebbe stato anche, se fosse stato un pittore di paesaggio tradizionale, avrebbe dato diciamo le spalle ai Sibillini e avrebbe visto queste vallate che si aprono verso il mare se la sua fosse stata una pittura di paesaggio di tradizione ottocentesca. Invece Licini dà sempre le spalle al mare e guarda verso le montagne, guarda verso queste colline che chiudono lo sguardo verso l'orizzonte. Quindi rappresentano queste colline il limite che come la siepe leopardiana facilita appunto il progredire dell'immaginazione lasciata libera nel pittore, nel poeta e in chi guarda l'opera di immaginare che cosa ci sia dietro. Oggi noi sappiamo grazie agli studi di Mattia Patti che sarà qui tra due giorni e che ha effettuato appunto le indagini riflettografiche su tante opere di Licini, che molti di quei paesaggi che noi oggi vediamo sono frutto di interventi che si sono succeduti nel tempo. Bene, se noi andiamo a leggere questi interventi grazie all'ausilio appunto degli studi fatti da Mattia Patti, vedremo che sono sempre interventi che tendono a chiudere ancora di più l'orizzonte. Noi abbiamo per esempio un paesaggio intitolato Servigliano dove a un certo punto lui ha fatto calare una coltre di nebbia, quindi quel poco di orizzonte che si vedeva in un secondo intervento è stato cancellato da una coltre di nebbia che rende anche i profili delle montagne poco leggibili. Il che vuol dire appunto che c'è una coerenza in tutto il procedere di Licini nel riprendere in mano questi paesaggi a distanza di tempo. Poi l'altro tema sicuramente leopardiano e qui insomma è abbastanza scontato il riferimento è legato alla malassunta e Licini appunto a dire a Marchiori se ti chiedono chi è a malassunta tu di che è la luna garantita d'argento per l'eternità. Quindi questa immagine lunare appunto che richiama ovviamente i tanti componimenti di Leopardi in cui si parla della luna a partire dall'inizio del canto del pastore errante per il canto notturno del pastore errante nell'Asia con l'invocazione alla luna. Insomma ci sono tanti richiami leopardiani anche perché appunto in una rievocazione naturalmente romanzata di Leopardi Michele Mari scrisse alcuni anni fa un divertente testo intitolato Io venia d'angoscia a rimirarti dalla quale risulterebbe che Leopardi fosse un licantropo quindi che nelle notti di luna piena in palazzo Leopardi si sentissero degli ululati e la mattina dopo i mezzadri del conte Monaldo andavano a portare i resti di questi agnelli dilaniati da quello che appunto non è detto esplicitamente ma doveva essere il licantropo Giacomo. Naturalmente la famiglia Leopardi non gradì molto questa rievocazione così sanguinaria e appunto piena di fascino demoniaco di Leopardi però certamente la fascinazione lunare Leopardi c'è certamente non penso che sia stato un licantropo però l'idea che possa maturare in un romanziere brillante un'idea del genere anche di sacratoria ovviamente nei confronti di Leopardi è più che possibile. La luna dicevo poi riflettendo l'altro giorno su dei temi più legati invece alla letteratura remota le immagini degli angeli ribelli che appunto figure che assommano i loro elementi appunto dell'angelo e del diavolo mi è venuto in mente invece un riferimento filosofico e sono andato a vedere se tra i libri di Licini almeno la porzione dei libri di Licini che abbiamo noi ci fossero dei testi di filosofia antica e ci sono due testi di Platone perché il pensiero corre immediatamente al mito dell'ermafrodita di Platone di questa figura appunto con quattro braccia e quattro gambe fatta per un lato da un uomo per l'altro lato dalla donna uniti insieme che si muove rotolando azionando appunto gli arti di ciascuna figura fino a che appunto Dio che è compiaciuto fino a che Zeus scusate desideroso di far cessare questo stato di grazia dell'uomo non manda Hermes che li divide in due e crea appunto separatamente l'uomo della donna ecco questa coincidenza degli opposti che caratterizza molte immagini di Licini non soltanto gli angeli ribelli anche il discorso potrebbe essere anche allargato ad alcune delle malassunte mi pare che possa avere un'origine appunto così remota e colta da portarci nella direzione di Platone. Debo fare il vigile e segnalo che c'è un minuto ancora. Ho finito. Perfetto grazie. Grazie a Stefano Papetti e naturalmente negli anni trenta ci sono anche delle suggestioni teosofiche o gnostiche molto curiose che girano in Italia. Licini era in comunicazione mi ha segnalato Luca Massimo Barbero con Fausto Ciliberti di Valori Primordiali di Cuomo che Stefano naturalmente stava in territori teosofici precedentemente frequentati anche da Papini nel suo momento spiritualista. Licini attraversa una serie di persone in comune col personaggio più bizzarro di quell'epoca che è Arturo Reghini che voleva restaurare il paganesimo e che era un pitagorico fervente che Papini chiamava fratello terribile. Il signor Ciliberti è allievo di Reghini e c'è quindi anche un'attenzione curiosa che ci porta verso certe figure gnostiche di creature ermafrodite estremamente eretiche, erotiche, erranti come appunto gli angeli ribelli di Licini che sono figure molto inquietanti che hanno molto a che vedere con tante figure eccentriche della cultura italiana tra anni 20 e 40 in cui il tema spirituale è fortissimo anche in altri territori ad esempio nella musica e curiosamente Licini lì sviluppa delle stranissime assonanze col compositore più eccentrico del novecento italiano, ossia Giacinto Scelsi, che negli anni 30 teosofico e attratto dall'induismo si occupava di figure di angeli ribelli di fuoco che gli entravano in testa e gli dettavano intere partiture. Molto interessante questo, sarebbe da ricostruire come questo sostrato teosofico che in realtà non ha mai avuto particolare udienza perché figuriamoci se l'Accademia Crociana adora gli adoratori di Pitagora, sarebbe un po' strano, ma d'altra parte invece tutto questo ha nutrito molta arte eretica, erotica e errante soprattutto nel tempo del ventennio. Ci spostiamo di nuovo nelle Marche a Montevideo Corrado, la casa, il luogo amato e molto anche considerato una specie di fortezza o prigione, ci dirà meglio chi meglio di noi abita quei luoghi, Daniela Simoni è a Montevideo Don Corrado in questa casa museo e naturalmente ci sono un'ultima cosa che volevo dire prima di passare la parola, c'è anche un romanzo che è uscito qualche anno fa di Pierfrancesco Brandimarta ma l'Assunta che porta alcuni nodi sul paesaggio adriatico e mi piaceva quella cosa che aveva proposto l'autore sui bilichi e i trabocchi, queste strutture di pesca e soprattutto la cosa del famoso trabocco dei turchini che sono dei pescatori pescaresi raccontati da Gabriele D'Annunzio nelle novelle della Pescara che usavano delle strutture identiche ai bilichi di Licini per raccontare come il grande pittore avesse saputo anche dare un'idea di un luogo reale elaborato nella sua visione, un'assonanza e una segnalazione. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Da Veneziana, diciamo trapiantata nelle Marche, torno qui per parlarvi questa sera di Montevideo e Corrado. Ed è l'importanza di questo luogo, un'importanza davvero fatale, inesorabile per Osvaldo Licini. È vero che nella storia dell'arte di esempi di legame profondo tra la pittura e i luoghi, ce ne sono tanti, basta pensare alla pittura tonale per Venezia o a quello che rappresenta l'Europa del Nord come contesto per la pittura fiamminga. Fino addirittura ad arrivare a pensare a come anche la strazione di Mondrian sia stata in qualche modo condizionata dalle luci notturne di New York. Ecco, per Osvaldo Licini, i suoi luoghi, il paesaggio che nel quale, sul quale appoggiato direi Montevideo e Corrado, un paesaggio caratterizzato da questo direi mare di colline che da un lato sconfina verso i Monti Azzurri e dall'altro accompagna all'occhio fino alle spiagge sabbiose dell'Adriatico, ecco quel luogo, quel paesaggio è davvero sostanza proprio oggetto di riflessione per la ricerca di Licini che è innanzitutto ricerca filosofica nutrita fortemente di un substratto letterario al quale l'artista attinge costantemente e poi ricerca artistica, un continuo interrogarsi sul senso dell'enigma dell'esistenza e su quello che è il significato di fare arte e di fare pittura. E allora iniziamo questo viaggio insieme nell'arte e nei luoghi di Osvaldo Licini, proprio così, vedendo insieme questo paese medievale che appunto è nella collina delle Marche Centromeridionali. Qui Licini è nato nel 22 marzo del 1894 ed è nato in quella che oggi è la Casa Museo Osvaldo Licini, in questa casa padronale settecentesca. La sua famiglia era, lo dice lui nel questionario Sheville del 29, erano dei contadini proprietari e in questa casa stranamente, inspiegabilmente, lui viene lasciato da bambino, dai genitori, Vincenzo che era cartellonista pubblicitario e la mamma, Medea Corazza, che era bolognese d'origine, cucitrice. I due si trasferiscono a Parigi quando Licini è molto piccolo, dopo due anni dalla sua nascita nasce la sorella Esmeralda, che cresce con loro a Parigi e diventerà ballerina all'opera. Loro probabilmente si sono trasferiti per migliorare la loro situazione lavorativa, infatti la mamma diventerà direttrice di una casa di mode, mentre il padre morirà piuttosto presto, già nel 17 quando Licini raggiunge la famiglia a Parigi il padre era morto. E dicevo, lui rimane, inspiegabilmente, a Montevideo Corrado lasciato alle cure del nonno Filippo, che era il patriarca della famiglia, un uomo che aveva un livello culturale superiore alla media del tempo, perché era perito agronomo, e un uomo che riesce a comprendere il suggerimento datogli dal maestro Diosvaldo che coglie, proprio negli anni degli elementari, questa attitudine artistica del giovane. E allora è proprio il nonno Filippo che fa iscrivere Osvaldo all'Accademia di Bologna e Osvaldo, infatti, dedica a lui il primo dipinto, cioè quello che è il dipinto numero uno del catalogo Marchiori, che è a tutt'oggi il catalogo ufficiale di Licini, redatto appunto da Marchiori, che è stato il suo critico principale nel 68. E questo è appunto il ritratto del 1908, del nonno Filippo che tra l'altro era rimasto, diciamo, nascosto sotto il profilo espositivo fino al 2016 e poi abbiamo potuto esporlo nella mostra di tratti di famiglia a Montevideo Corrado. Negli anni dell'Accademia Licini durante l'estate torna a Montevideo Corrado, i racconti di brutto li scrive proprio a Montevideo Corrado. Poi, ecco, dopo Bologna, l'esperienza all'Accademia di Firenze, la tragica parentesi della guerra e nel 17, il primo viaggio documentato a Parigi a trovare appunto la madre e la sorella. E dal 17 si apre un decennio in cui lui si sposta costantemente tra Montevideo Corrado, cioè tra le Marche e Parigi. A Parigi frequenta i caffè di Montparnasse, conosce Picasso, si è detto Modigliani, Cocteau, partecipa a mostre e diciamo soprattutto con l'aiuto dell'amico Mario Tozzi espone in contesti prestigiosi al Salon d'Automne, alle Closerie de Lillat, al Salon des Andependants e alterna a questa frequentazione parigina ma necessariamente proprio perché dalle lettere si coglie questa insofferenza per quella dimensione così per lui probabilmente troppo effervescente dell'ambiente parigino ha bisogno di lunghe soste di decompressione nelle Marche e allora fa chiaramente, quando torna nelle Marche sta nella sua casa a Montevideo Corrado e però queste pause nelle Marche sono piuttosto lunghe perché insegna le scuole tecniche a fermo, frequenta gli amici del caffè alimento, il gruppo il Cenacolo del caffè alimento, i fratelli Catalini, si diceva prima Cruto Vitali e altri intellettuali marchigiani e addirittura arriva anche a mettersi nei guai perché si innamora di una giovane fermana, una studentessa del liceo classico e appunto avrà anche dei guai dal punto di vista giudiziario. Durante questo periodo in cui fa la spola tra le Marche e Parigi nel 25 una sera conosce al caffè Le Dom a Parigi questa giovane pittrice svedese, noi abbiamo un racconto delicatissimo di lei e di Nanni che nel suo diario ricostruisce quella serata in cui lei che parlava già italiano come diceva il professor Papetti a modo di trascorrere con lui appunto una serata in piacevolissima conversazione e poi lei che doveva tornare a Göteborg rimane a Parigi a cercare questo italiano, questo pittore così fascinoso. Nel frattempo noi sappiamo dalle lettere che invece Osvaldo era partito, era andato nel sud della Francia a dipingere, a cercare quelle atmosfere matissiane che poi riporta nelle marine appunto francesi degli anni venti. Si ritrovano una sera di qualche mese dopo di nuovo al caffè Le Dom e da lì non si lasciano più. Nel 25 e 26 la serie dei meravigliosi ritratti e nudi di cui abbiamo degli esempi davvero affascinanti in mostra e e poi nel 26, nel dicembre del 26 la scelta forte. Licini a 32 anni decide di ritornare a Montevideo Corrado e porta con sé Nanni che compie questa scelta certamente per amore tant'è che Nanni che a Parigi frequentava l'Accademia di Julienne, era allieva di André Lot, giunta a Montevideo Corrado smette di dipingere. È come se davvero entrasse in una sorta di simbiosi con Osvaldo, condivide con lui proprio anche la genesi delle opere, i viaggi, il godimento del paesaggio. C'è una bellissima lettera di Licini a Felice Catalini del 32 in cui lui dice tornati dal viaggio in Svezia, adesso guardiamo dalle finestre crescere la primavera, primavera e i cambiamenti rapidi del cielo e dei verdi e ci divertiamo come a teatro. Quindi questa condivisione della fascinazione per il paesaggio e anche proprio, come dire, della dimensione proprio artistica. Questa scelta chiaramente è dettata dal fatto che Licini sente che per lui Montevideo Corrado è la dimensione esistenziale necessaria per svolgere quella ricerca di cui dicevamo, quella ricerca che non poteva che avere quel contesto di naturalità arcaica, una ricerca che poi giunge nella fase degli anni 40 proprio ad una necessità di ritrovare un primordialismo che coincide per lui poi nell'adesione al movimento di valori primordiali alla fine degli anni 30, dell'unico movimento come si diceva al quale lui davvero aderisce pienamente, il movimento di Franco Ciliberti che era una sorta di movimento spiritualista che fondava diverse istanze, il pitagorismo, il neoplatonismo, l'interesse per l'archetipo jungiano, il mito e cercava proprio di cogliere il primordio per rifondare la cultura contemporanea. Ecco, un artista che sente la necessità di recuperare questa dimensione primitiva non poteva che scegliere di rimanere in quei luoghi e di lasciarsi affascinare, lasciarsi incantare costantemente da questo paesaggio guardato appunto con stupore e con meraviglia, un paesaggio che negli anni 20 si coglie nelle varie cifre stilistiche nelle quali l'artista si cimenta, secondo quelli che sono le suggestioni che gli erano giunte dalla pittura francese di fine 800, inizi 900, Licini lo dice chiaramente nella lettera a Carrà nel 35, appunto scrive i miei maestri sono Matisse, Cézanne e Van Gogh e queste suggestioni sono chiare anche in quella bellissima sala in mostra che ricostruisce proprio il percorso nel paesaggio degli anni 20, ma come dicevamo il paesaggio è molto presente anche negli anni 30, si legge in filigrana e ritorno alla mostra, al dipinto La Quilone Rosa o anche il bivico stesso, proprio quella linea in bivico che da un lato rimanda al relativismo filosofico liciniano, dall'altro però è una suggestione che lui coglie dal paesaggio. Ora prima di passare appunto a vedere un attimo le opere degli anni 40 e 50, facciamo un breve scorso insieme proprio del confronto tra le opere figurative, ecco come questo paesaggio che pure è in mostra, in cui c'è questa sineddoca appunto del paesaggio marchigiano con questa casa e i due alberi e come vedete dalla casa di Ricini si vede proprio questa casa di mattoni con gli alberi che è molto simile. E' ancora il taglio compositivo diagonale del paesaggio con l'uomo che riecheggia il paesaggio, questo paesaggio estivo di Montevideo Corrado. Questo è il paesaggio del 27 che conserviamo nella casa museo, nella nostra casa museo donato da Silvia Lorenzo Licini in cui è evidente la cifra matissiana e questo senso di levità che già si incontra nelle opere degli anni venti e come vedete però la suggestione visiva del paesaggio nella foto è forte. E ancora l'atmosfera quasi apocalittica di certi tramonti, questo l'ho fotografato dalle finestre della mia casa una decina di giorni fa, assolutamente richiama certe atmosfere, come nel caso di questo arcangelo del 19 che è una sorta di incunabolo poi di quelli che saranno gli angeli ribelli degli anni 50. E' ancora questo paesaggio con la neve, il tema della neve ritorna spesso nelle lettere che Licini manda a Copiose da Montevideo Corrado, parla di inverni in cui nevicava anche per tre mesi, questa scelta di vivere a Montevideo Corrado, questa scelta di coerenza, questa scelta, cioè da un lato voluta, dall'altro anche sofferta, era una scelta forte perché effettivamente anche oggi chi viene a Montevideo Corrado, mi rivolgo a Silenio Sorbaglini che è stato con noi un paio di volte, si ha un po' la percezione davvero di uscire dalle coordinate, diciamo così, della società e di stare un po' davvero fuori dal mondo, figuriamoci cosa era negli anni 20 e negli anni 30. Ecco e ancora arriviamo agli anni 40, gli anni in cui Licini sceglie l'isolamento a Montevideo Corrado e su questo mi piace leggervi davvero le due righe che poi ci conducono al titolo della mostra. Il 15 aprile del 1943 Licini scrive a Marchiori, per ciò che riguarda il mio lavoro sarà bene aspettare, bisogna avere pazienza, la mia ora non è suonata, un'irrevocabile decisione è presa, di non esporre, di non mostrare, di non vendere per tutta la durata della guerra. Da Milano giungono pressioni e lusinghe di ogni specie, ma io duro, da due anni sto accumulando materiali, materiali, fra poco sarò pronto per la mia ultima avventura, la vera, la decisiva, che un vento di follia totale mi sollevi. Ecco negli anni di guerra Licini si chiude a Montevideo Corrado e elabora questa straordinaria mitografia delle Amalassunte, degli Angeli Ribelli, degli Olandesi Volanti e il paesaggio torna assolutamente dominante nelle sue opere. Un paesaggio trasfigurato dalla sua visionarietà, un paesaggio in cui assistiamo proprio all'iconografia di questi personaggi che sono suoi alter ego. Qui vediamo l'olandese volante, una sorta di Ulisse Nordico che rimanda al tema dell'erranza e osservate come il paesaggio evocato in maniera assolutamente sintetica nel dipinto di fatto colga la suggestione del profilo dei Sibillini. E poi Amalassunta, l'epifania appunto di Amalassunta nella notte di Montevideo Corrado, davvero la luna è imperiosa nel paesaggio notturno di Montevideo Corrado e vi assicuro che davvero in alcune notti invernali quando c'è la luna piena si vede proprio il profilo dei Sibillini innevati, questa luce lattea che lui riporta su questi profili antropomorfi ormai dei Sibillini, sono davvero frutto di una suggestione visiva che si coglie e che lui coglieva dall'altana dove saliva di notte a parlare con la luna. Ecco, questa è l'immagine di Licini che alla Biennale di Venezia del 58 si presenta con il suo scelletto sferruzzato da Nanni a ricevere il premio dal presidente Gronchi. Scrive Marchiori, avevamo scambiato questo tuo presentarti con questo scelletto per uno snobismo eccessivo, in realtà invece come dire, eri tu, cioè era una scelta di campo di assoluta coerenza, Licini con il suo essere primordiale in qualche modo, con la sua marchigianità universale, perché non era certo legata al luogo, non era certo localistica, arriva anche a Venezia a ricevere il premio della Biennale con il suo scelletto. E poi ritorno a Montepidon Corrado dove lui negli anni dopo la guerra in cui elaborava la sua mitografia delle marassunte degli angeli ribelli non viveva solo in una dimensione contemplativa ma si era anche preso cura del suo paese come sindaco per due mandati, quindi anche con un senso di pragmatismo e di impegno morale davvero davvero forte. E veniamo velocemente a vedere cosa oggi c'è a Montepidon Corrado che rievochi la presenza di Licini. La visita nella Casa Museo che è stata acquisita dal comune di Montepidon Corrado, restaurata con un intervento davvero in punta di piedi che ha lasciato molto dell'atmosfera della Brè, del senso di vissuto, è molto casa, è molto poco museo con apparati di dascalici essenziali e ricostruita nel mobilio, con i mobilio originali, originale del donato da Caterina Celi-Helstrom e anche con gli oggetti che poi ritroviamo nei dipinti di Licini. Il percorso nella casa è un percorso che ripercorre quello che è stato anche un po' l'iterliciniano, la scalata al cielo, perché si parte dalla cantina che è un po' il ventre della casa dove lui faceva i colori, dove teneva le riunioni politiche, dove c'è questo singolarissimo crocefisso dentro il cerchio di botte che rimanda a quello spiritualismo eretico in qualche modo di Licini. E poi ecco nel piano terreno l'atrio, la sala dove Licini teneva le opere ultimate e dove avendo la possibilità di tenerle un po' a distanza perché lo studio era piuttosto piccolo, poneva gli ultimi ritocchi lavorando con delle sagome, dei ritagli che abbiamo conservati nello studio. Ecco lui in quella stanza con il bilico, la cucina con i mobili e gli oggetti che sono arrivati dalla Svezia, delle lettere si evince che erano stati sdoganati dei mobili nel 32 al porto di Ancona, e gli sportelli che abbiamo in gentile deposito perché sono di proprietà della galleria di Ascoli, però sono gli sportelli dipinti da Osvaldo e ricollocati nella loro posizione. Il soggiorno con i due dipinti che ci sono stati donati dagli eredi Licini, quindi Silvia e Lorenzo Licini, e dipinti che a rotazione ci vengono davvero con grande generosità, se non c'è una mostra in corso, testati da collezionisti che davvero con piacere lasciano le loro opere nella casa museo, temporaneamente naturalmente. Ecco qui le immagini che testimoniano com'era la casa, vedete il ritratto della madre, era collocato nel soggiorno ed è tutt'oggi stato riposizionato. E la scalata al cielo, nel soffitto del vano scale, queste traiettorie sidere dipinte da Licini nel 43 per coprire le crepe del terremoto, la stanza di Caterina con le opere di Nanni d'Accademia, le finestre con questo panorama mozzafiato, le finestre cornici a loro volta di queste visioni che sappiamo essere così importanti per l'artista. La camera con l'archipittura che rimanda appunto a quella produzione della seconda metà degli anni 30, quella produzione denominata in maniera così un po' antifrastica, archipittura proprio nel momento in cui Licini invece dice che la pittura è l'arte dei colori dominata dalla fantasia a differenza dell'architettura che invece è razionale. Lo studio ricostruito come vedete davvero come era, i suoi materiali e lui nello studio. E poi la scala che portava sull'altana dove lui andava appunto di notte a parlare con la luna. Velocissimamente il centro studi Licini che dall'88 si occupa di promuovere la figura dell'artista con mostre, convegni, progetti di ricerca e dove sono conservate le carte Liciniane che sono state donate da Caterina Ciali-Estrom che rivelano pure un tratto molto personale, segreto dell'artista. Sono carte in cui si mescola la scrittura con il segno grafico in cui quella stratificazione che si trova nei dipinti appunto pure si trova nelle opere. Ecco, ho portato questa immagine che è uno studio per il ritratto di Nella che avete in mostra, questo anche che è in posizione 3H degli anni 30 che ci sono. Poi gli stampati con gli schizzi di Amalassunta, gli stampati della Prefettura di quando lui era appunto sindaco. Questa invece, questa Amalassunta disegnata su una busta arrivata da Beatrice Muller che è la crocerossina svizzera dalla quale ha avuto nel 17 il suo unico figlio Paolo e poi questa bellissima carta che mescola questo testo poetico sugli angeli ribelli con questi schizzi. E poi davvero una sintesi delle mostre più significative che in questi anni abbiamo realizzato, Licini-Morandi, Divergenze parallele nel 2011 a Fermo e a Montevideo-Conrado e poi delle piccole mostre di ricerca, di focus sull'opera di Licini. Questa sull'angelo di San Domingo, i ritratti di famiglia, nello studio di Osvaldo in cui abbiamo messo a confronto delle opere pittoriche singolari con i disegni e poi le mostre di arte contemporanea. Quindi la mostra di Walter Valentini, Sideria Mensura e la mostra di Emilio Esgro di quest'estate, lettere che davvero per noi è stata molto importante nel sessantennale e queste sono i due dipinti che Isgro, le due opere che Isgro ha realizzato proprio per la mostra. Chiudo con questa citazione di Giuseppe Marchiori che Marchiori scrive nel catalogo del 58 della mostra a Ivrea quando Licini era ancora vivo. Scrive Marchiori, anni lenti, anni difficili e anni lieti di lavoro erano trascorsi nello studio di Montevideo-Conrado, in un paese che mi sembrava inaccessibile come il famoso castello cafchiano. Dal 1932 a oggi mille ostacoli impedivano quel viaggio nella luna, la guerra, le stagioni, la neve, il lavoro, la pigrizia, tanto da farmi credere che Montevideo non esistesse sulla carta geografica ma non fosse che un'invenzione poetica. E anche oggi mi piace credere che il piccolo borgo esista soltanto nella pittura di Osvaldo Licini, alto sugli aperti orizzonti e misterioso. Grazie. Grazie a Daniela Simoni, Giuseppe Marchiori molto spesso evocato naturalmente ebbe a Venezia la Fondazione Vive l'Acqua alla Masa, una mostra memorabile nel 2004 curata da Silvio Salvagnini che ricostruiva il ruolo importantissimo di questa figura di critico e scrittore e una volta sarebbe anche da scrivere questo legame tra luoghi adriatici, luoghi tra Veneto e Emilia e la Serenissima perché naturalmente Marchiori stava a Lendinara, provincia di Rovigo e gravitava su Venezia come il suo amico Eugenio Ferdinando Palmieri, fondatore della critica cinematografica moderna e della storia del cinema italiano che fondò la prima edizione, si può dire, di un festival sul cinema mutuo alla prima edizione della mostra del cinema di Venezia, anche lui di Lendinara, è un mondo di piccoli mondi e di città polo, Venezia ha a che vedere con molte vicende tra luogo adriatico e Emilia e sarebbe da ricostruire come sempre secondo sua maestà Carlo Dionisotti la storia e geografia di questi movimenti specialmente interessanti perché sovente sono piccoli movimenti tra luoghi piccoli e luoghi grandi che ci fanno capire le geografie novecentesche. Veniamo a Emilio Esgro che da non molto ha pubblicato la sua autobiografia da Sellerio, Autocurriculum, Venezia in questa autobiografia è presente in vari modi, non solo per la sua passata attività giornalistica presso il Gazzettino ma anche perché c'è una mostra tra le prime, importante, la galleria e il traghetto se non erro, dove viene dichiarata una frase fondamentale della sua opera che è quella per cui la poesia è arte generale del segno che poi torna in numerose occasioni in cui i suoi lavori vengono presentati all'inizio della sua carriera artistica, la famosa Volkswagen del gruppo 63 con tanto di vescovo che chiede benedizione, incontro con la madre, non mi ricordo più com'era, sua madre che aveva chiesto in ogni caso, era solo per dire questo legame veneziano è un inizio della sua autobiografia ma ci spostiamo verso Vicini e la prima domanda che le facevo era quello che Vicini lei aveva apprezzato anche in questi anni veneziani in cui l'eco della Biennale del 58 è molto alta e non ancora vivo. Intanto arrivai a Venezia nel 1960, nel 1960, esattamente due anni dopo che Vicini aveva ricevuto il premio della Biennale e conoscevo molto bene, anche perché il mio ruolo di responsabile dei supplementi culturali del gazzettino mi portava in certe direzioni conoscevo molto bene Giuseppe Marchiori che mi parlava naturalmente di Licini. Lo vedevo spesso a colazione all'angelo e lui si doleva allora era un critico di punta, Marchiori, della scarsa considerazione, relativamente scarsa perché in effetti già il suo lavoro cominciava a circolare di cui secondo lui godeva ancora Licini in Italia nonostante avesse appena avuto il premio alla Biennale. In effetti io credo che come tanti artisti di tempra buona l'eretico Licini aveva bisogno di nascondersi. Gli artisti hanno bisogno di nascondersi, quelli che hanno una vena autentica di creatività e si nascondono anche quando stanno in mezzo ai clamori mondani, sanno come si fa. Io nel mio piccolo posso stare in mezzo alla folla di collezionisti, galleristi, amici e tuttavia sono chiuso in un mio guscio. Ascolto le voci del mondo e mi arrivano anche più nitide. Credo che questo facesse Licini. La mia naturalmente non è un'esperienza da filologo perché qui ci sono stati degli studiosi formidabili che hanno detto tutto sui rapporti tra Licini e la pittura del suo tempo, tra Licini e la letteratura. Quindi lui si nascondeva non per una condanna ma per stare in ozio. Perché un vero artista è anche ozioso e pigro. Gli artisti non sono così. Quando sono frenetici e troppo lavoratori in qualche modo devono farci riflettere. L'artista è pigro. I poeti sono tutti pigri, dei grandi pigri. Perché? Perché la creatività si coltiva nella pigrizia. Quindi è per questo che gli artisti benestanti oppure beatamente poveri, essendo affrancati da impegni troppo pressanti, producono meglio e di più. Producono gli stessi capolavori che ha prodotto Licini. Quindi la sua fu una scelta, una ritirata strategica. La moglie evidentemente gli piaceva, stava bene con lei. Che c'è di male se un artista fa una scelta di questo tipo. Bisogna dire anche che nei momenti caotici della storia, mentre il grande mondo vive freneticamente, qualcuno potrà anche avere la sensazione che è meglio per lui regredire al villaggio. Non in chiave naturalmente strapaesana. E infatti lui non fu mai strapaesano perché era culturalmente di impronta cosmopolita. Conosceva i futuristi, gli piaceva Palazzeschi, quindi non poteva essere quello. Però aveva bisogno del suo buon retiro. Diciamo questo era il motivo per cui non per rinunciare al mondo, ma per ascoltarlo meglio. Il mio rapporto personale con Licini avrete capito che è un rapporto da artista. Non è un rapporto da storico dell'arte o da filologo. La prima volta che io vidi un quadro di Licini, lo vidi nel 1956 arrivato ventenni a Milano a studiare. E lo vidi proprio al milione e me lo fece vedere Graziano Ghiringhelli che del milione, dei Ghiringhelli era l'erede in quel momento quello che gestiva le cose. Eravamo molto amici, anche lui era giovane, aveva la mia stessa età e ricordo che portava un vestito azzurro lucini. Questo me lo ricordo perfettamente. E mi fece vedere una malassunta. Io ne rimasi letteralmente, scusate la mia testimonianza personale, stupito. Non avevo mai visto niente del genere. Forse perché ero ignorante a quell'epoca. Non conoscevo tutto ciò che si produceva in pittura. I miei interessi oltretutto erano di tipo strettamente letterari a vent'anni, a quell'età lì. Però poi cominciai a vedere anche delle opere dove apparivano parole, segni alfabetici. E allora questa letterarietà di Licini mi pose delle domande. Da dove veniva questa forza? Giustamente qui si è fatto il nome di Leopardi. Era un uomo della sua terra. Effettivamente c'è sempre una siepe al di là dei suoi paesaggi che noi vediamo. Però io mi sono ricordato che lui aveva studiato a Bologna e non poteva non conoscere le poesie di Pascoli, che oltretutto era il solo tramite che poteva avere con la grande poesia francese di stampo simbolista, perché Pascoli era stato influenzato dal simbolismo. E c'è una poesia del Pascoli che si intitola L'Aquilone, ambientata a Urbino, che qualcuno qui dice che non è Marche, ma io non entro nel merito perché lo dicono loro. Effettivamente è una poesia piena di vento, che è lo stesso vento che c'è nel rosso, negli azzurri mossi di Licinina dove noi vediamo volare dei misteriosi aquiloni verso l'alto. Vediamo delle stelle, vediamo delle stelline. Ma se faccio un passo indietro, e questa mostra ce li mostra molto bene, e rivedo i suoi angeli ribelli, l'angelo quasi spaventato, più che spaventare, che c'è in un quadro, allora io mi domando come è possibile che una cultura così indubbiamente cosmopolita, anche politicamente, lui aveva un'impronta anarchica come in sua forma, e questo gli viene anche dal suo soggiorno a Bologna dove l'anarchismo aveva una grande forza con Andrea Costa e con lo stesso Pascoli, che era finito in galera verso la fine del secolo dell'Ottocento, proprio per aver flertato con gli anarchi. Da dove gli viene questa fede domestica? E si può essere legati alla propria terra, alla propria cultura e cosmopoliti insieme? Forse sì, forse si deve, perché laddove l'espansione globale della cultura non significa omologazione, è proprio la differenza che porta gli uomini a non cercare differenze magari aggressive, perché l'arte va sempre in alto, vola proprio come un aquilone. L'arte impedisce le guerre, non le fomenta, anche se al momento di fare la guerra Licini personalmente c'era stato. Io ho conosciuto a Venezia un uomo al quale Licini si sperava molto ed era Aldo Palazzeschi, lo ricordo, lo frequentavo, normalmente così piccolo aveva tutti dei mobili che si era portato dalla casa di Parigi, nella sua casa veneziana, quindi Parigi, Palazzeschi. E allora io mi domando una cosa, ma perché questi uomini erano così colti? Perché sapevano tante cose? Cosa voglio dire? Ci sono pochi testi poetici di Licini, ma a loro modo sono perfetti. Chi cerca suole mai trovare certezza è un bellissimo indecasillabo, perfetto come una stella dipinta nei suoi quadri, perché evidentemente il livello culturale anche dell'italietta di quegli anni era un livello alto, era un livello alto e questo ci deve far riflettere. Perché Licini si ritrasse da strapese? In una lettera cita Malaparte, forse in più d'una, che invece era stato un po' grande scrittore, ma un po' più ambiguo da questo punto visto. Perché si ritrasse? Perché evidentemente presentiva la dose di violenza che strapese avrebbe portato sboccando direttamente in quello che poi sarà il fascismo. Quindi lui era un uomo molto avvertito che stava attento ai suoi passi. Per questo lavorava lentamente e lavorava poco, perché gli artisti hanno il dovere di lavorare poco e bene quando il mondo corre, devono rallentare il passo se gli altri accelerano. E' per questo che si ritirò nella sua terra marchigiana, perché anche Parigi a un certo punto forse lo spaventava nonostante lui conoscesse bene quel mondo. Quindi è una serie di interrogativi. La letterarietà di Licini non è distante dalla letterarietà a suo modo di un dechirico. Non parlo del fratello scrittore, parlo proprio di Giorgio. Io ho avuto modo di vedere i suoi manoscritti, per esempio il trattato sulla scrittura, ho avuto modo di vederlo perché mi si chiese di lavorarci sopra all'università di Milano e scritto stupendamente, questa era gente colta, che aveva letto libri ed era in grado di scriverne. Allora posso dire che questa gente aveva una tenuta, aveva una tenuta perché sapreva conciliare gli opposti. Si direbbe la coincidenza oppositorum, come diceva Jung, queste cose riuscirono a tenere, perché l'artista veramente di peso non è quello che sceglie, è quello che sceglie tutto e tutto fa coesistere in un solo gesto. Quello che sceglie semplifica troppo, va bene per altre operazioni, ma non certamente per portare avanti la conoscenza umana. Prendiamo le lettere di Licini. Perché questo irrompere della parola nel quadro? Voi sapete che uno dei grandi problemi della pittura moderna è stato quello di aver abbandonato la vecchia prospettiva di Paolo Uccello, di Piero della Francesca, appiettendo il quadro. Molti non se ne davano pace, poi la fotografia in parte è recuperato quella prospettiva. Il quadro è piatto. Io credo che Licini e molta buona parte dell'arte contemporanea ha voluto in qualche modo sostituire la prospettiva quattrocentesca e rinascimentale con una prospettiva verbale, perché proprio lo spessore storico delle parole può restituire al quadro delle lettere o degli alfabeti quello spessore visivo che appiattendo il quadro non c'è più. Io faccio questa ipotesi, ne ho scritto anche di questo problema. Quindi voi capite che un pittore come Licini per me è un artista e una miniera. Devo dire che è anche un artista molto diverso da me. Nel senso che io non saprei fare i suoi quadri, eppure li trovo meravigliosi. Le ragioni della sua relativa scomparsa nel paesaggio dell'arte italiana, ma perché evidentemente è un personaggio diverso. È un personaggio non allineato. Non lo era neppure un De Chirigo, ma De Chirigo aveva vissuto a Parigi, aveva una madre che se lo portava per mano in Baviera, a Monaco di Baviera studia il tedesco, a Legere. Quindi in qualche modo quello che è sorprendente è questo, come un personaggio che si chiude in se stesso sia allo stesso tempo capace di sprigionare tanta energia. È una delle domande che ci facciamo nei confronti dell'arte. Come la sua fragilità diventa una forza e diventa una potenza. Fragilità anche fisica, visto che aveva perso, si era infortunato una gamba. Quindi resta un enigma, un enigma meraviglioso, come è sempre la vera poesia. Io leggo così gli sceni. Grazie mille. Con la sua scarsa produzione si fece desiderare, quindi parlare meno serve. Grazie a Emilio Isgro e a questo punto c'è spazio per qualche domanda o intervento. Prima di presentare il breve teaser di un documentario di lavorazione su Svaldo Licini, di cui poi parleremo, c'è un microfono che gira e una gentile signorina in veste di Angelo Preaffaelita che porta il microfono medesimo. Seguite la bionda. Qualcuno ha voglia di fare interventi, dichiarazioni o di dire qualsiasi cosa che ritenga sull'argomento Svaldo Licini dalle prospettive per cui lo abbiamo raccontato. Naturalmente è una riflessione scaturita dall'intervento del maestro Isgro relativamente alle lettere, alle parole che compaiono da un certo momento in poi nelle opere di Licini e che possono creare uno certo stupore, non nell'opera di Licini in genere, il fatto che alcuni artisti del Novecento, però chi ha un minimo diciamo di familiarità con l'arte del passato sa che dal Medioevo in poi tutti i quadri erano in tessuti di parole, di testi. Tutte le indicazioni che l'angelo rivolge alla Madonna quando gli porta l'annuncio, da Simone e Martini in poi, sono state sempre scritte in rilievo sulla pastiglia dorata. Ci sono le scritte dedicatorie in basso dei quadri. Licini era un grande appassionato di pittura del primo Quattrocento, quindi tutti gli artisti che nella tradizione di Sassetta, perché era uno dei suoi amati, insieme penso a Crivelli, anche se non lo dice mai, io lo spero perché sono un Crivelliano, scrivevano e le lettere sono integrate nel testo figurativo, non sono un'altra cosa. Ma infatti lui non riprende il lettering in chiave marinettiana, lo riprende in chiave quattrocentesca. Come appunto leggevo invece un riferimento alle parole libertà di Marinetti non c'entra niente. Ma non c'entra solo, però bisogna dire anche una cosa, che il suo mondo di angeli e di demoni ha un altro nome di riferimento. Io ho voluto fare, forzando forse un pochino il nome del Pascoli, la Romagna in fin dei conti è vicina a voi, ma c'è un altro poeta che in qualche modo presenta nelle sue poesie un mondo di latta, di seta, ed è Corrado Govoni, che gli specialisti di poesia conoscono bene, anche lui figlio di contadini possidenti, quindi del ferrarese, e i suoi angeli portano probabilmente spade di latta, mentre il fiammeggiante Licini preferisce parlare di spade di seta, che suona meglio. Bene, a questo punto, in attesa di, abbiamo i due registi. C'è una domanda per Massimo Raffaele. Grazie, prego. Ve lo farei una domanda. Siccome ho lavorato un paio di anni fa ad un documentario su Ligi di Ruscio, e, insomma, ho visto e ho capito che potrebbe esserci un legame, solo che nel documentario non era uscito fuori dalle varie interviste fatte. Volevo sapere se, insomma, lei aveva... Luigi di Ruscio, di cui sta per uscire da una collana, forse l'ultima collana prestigiosa della nostra letteratura, quanto alla poesia da Marcos i Marcos, di Milano, un'antologia, è un poeta che per tutta la vita ha fatto l'operaio, ma non è un poeta operaio, né un operaio poeta, ma è uno che ha reso la condizione di operaio la condizione umana. Ha esordito da svarze, come il maestro Isgro nel 1953, presentato da Fortini, Non possiamo abituarci a morire, è emigrato nel 1953 a Oslo, ha scritto altri sei libri di poesia, dei romanzi, e solo molto di recente è stato canonizzato. È un poeta estraneo, sia all'avanguardia che a grande stile, cosiddetto, ma ha conosciuto, scrive dal basso, una specie di sublime dal basso, per l'asse anaforiche, violente persino, è certo che il giovanissimo di Ruscio, emigrato nel 1953, ha incontrato, questo è certo, lo dice nel suo romanzo autobiografico, picaresco, che si chiama Palmiro, che abbiamo riproposto dai DS qualche anno fa, e lui ricorda la fusciacca di questa specie di santone pauperista, maoista, anteliteram, che girava appunto con la fusciacca e una specie di fulare, eccetera, per il paese adorato dai compaesani, deve essere stato anche come uomo una persona speciale, e lo era anche di Ruscio, non oso immaginare le scintille di un eventuale dialogo che tuttavia non c'è stato. Prego. La mia è un'osservazione da spero futura storica dell'arte, piuttosto che una domanda. Lei ha mostrato un paesaggio di Licini con una sorta di banda nera al centro, che mi ha subito fatto ricordare due opere, una di Morandi, degli anni dieci, e una precedente, di Cézanne, che ha proprio una spaccatura nera, e per fortuna, devo ammettere, recentemente ho visto su YouTube, un video di Fergonzi che ha tenuto una lezione all'Accademia dei Lincei, in cui parlava proprio del fatto che Morandi, in una foto, ha un libro con le reproduzioni di Cézanne, e c'è proprio quella identica spaccatura, e sarebbe davvero divertente, se si potesse creare un parallelismo tra tutte e tre le opere, e anche tutti e tre gli artisti poi. Sul rapporto con Morandi si è riflettuto molto dal punto di vista critico, e anche in mostra, nella mostra curata da Luca Massimo Barbero, la mostra si apre con due opere, una di Morandi e una di Licini, che sono davvero due incunaboli di quello che saranno poi gli sviluppi per l'uno e per l'altro. È indubbio che la matrice cesaniana ci sia, in Licini e in Morandi. I Morandi permane, e poi si trasforma davvero in paesaggi che hanno quella solidità geometrica, e quel senso di silenzio e di fermezza, quella luce che scandisce proprio con quei tagli netti, i piani. In Licini invece poi questa lezione cesaniana permane, perché poi se vedi anche in mostra, al di là del paesaggio, anche nel ritratto, per esempio il ritratto di Nanni della Galleria di Ascoli, è una riflessione sulla pittura cesaniana e sul passaggio poi alla scomposizione cubista. È un'interpretazione diversa data da Licini e da Morandi sulla lezione cesaniana, perché poi Morandi di fatto lavorerà molto su quella realtà ravvicinata e rifletterà molto su quella serie di ritratti, in realtà, degli oggetti che sono le nature morte. Invece Licini, con la sua levità e questi campi di sguardo lunghi e l'idea dello sfondamento all'infinito, l'idea leopardiana di andare oltre l'orizzonte, chiaramente questa matrice cesaniana la elaborerà in maniera differente, anche aggiungendoci altre componenti, ecco per esempio Matisse con la levità della linea, per lui è fondamentale, invece Morandi è più integralmente cesaniano. Perché la partenza è la stessa, tutti e due all'Accademia di Bologna guardano a Cézanne, per loro Cézanne è un riferimento forte, poi ognuno prende la sua strada, il confronto tra le ballerine azzurre di Licini e le bagnanti di Cézanne è assolutamente calzante. Scusate, ho detto di Cézanne, volevo dire di Morandi, scusate, si è fatto tanto. Quindi Cézanne, vabbè è chiaro, volevo dire Cézanne e Morandi, Licini e Morandi. Mi ha colpito, se n'era parlato tra l'altro un mese fa, questa idea del portrè dell'artista in Salting Bank di Starobensky, perché in effetti, poi è venuto fuori anche il discorso dell'esempio di De Pisis, stranamente tutti e due sembrano voler fare una cosa e poi in realtà sono un'altra, perché allora Licini manda questi racconti alla Cerva e loro lo gestinano. Stessa cosa fa De Pisis quando manda a Tristan Zara degli articoli e lui li cestina, diciamo. Tra l'altro poi, mi pare tu, avevi ricordato che era talmente affascinato da Leopardi, non soltanto da, lui compra uno scartafaccio bianco, lo intitola Lo Zibaldone, e lui dice farò sempre la mia grande opera e pensa di essere uno scrittore, poi in realtà è un'altra cosa. E poi vivete in qualche modo questa sorta di spostamento, questa sorta di vita parallela, non saprei come dire, e c'è sia in Licini che in De Pisis. Microfono, grazie. No, ne avevamo appunto già parlato e con una, dico una ovvietà, che tutta la scrittura di Licini è una specie di risorgiva, carzica, esce, rientra, e invece De Pisis, non sapessimo che è stato il De Pisis pittore, ha una sua autonomia di scrittore e in prosa, e di Elzevirini novecenteschi, che non è possibile dire a Bialicini, insomma. Contini, per esempio, c'è un saggio bellissimo di Contini e anche nel libro di Memoria di Contini, Dirigenza e Volutà, Contini ventenne, genio assoluto della filologia europea, viene mandato da Santorre de Benedetti, da Bédier alla Sorbonne, il primo che va a cercare, mi pare, abitasse dietro San Silpice, è De Chirico, è De Pisis, ma ben inteso, le riproduzioni di De Pisis allora non è che fossero di senso comune, conosceva già gli iscritti di De Pisis, e non è un caso, insomma, che Naldini ne ha fatto una delle sue grandi biografie, che non stona vicino a quella canonica, che non è quella di Pasolini, paradossalmente, ma quella di Comisso. Sì, sono d'accordo. Dunque, poiché il tempo è tiranno, chiederei di passare il microfono ai due registi, che hanno in totale 120 secondi, non uno di più, per presentare la loro opera, perché essendo giovani, essendo in un'epoca digitale, debbono essere molto veloci. Quindi, la parola va a Elia Bey e Mattia Biancucci, prego, parlate, prima che si vedano due minuti e 21 secondi del loro teaser su Licini. Sì, vuole. Grazie, buonasera, innanzitutto ringrazio il Museo Guggenheim e il professor Stefano Papetti per l'invito qui questa sera. Il nostro, diciamo, è un documentario che verrà girato interamente il prossimo anno, nel 2019, e cercherà in qualche modo di, scusate le spalle, di trattare la figura di Osvaldo Licini in un modo un po' particolare, non solo riferendosi all'opera artistica lasciata, ma anche e soprattutto a quello che era l'uomo e a quello che era il processo creativo di Osvaldo Licini, che l'ha portato ad attraversare, diciamo, vari filoni artistici, partendo dal figurativo, insieme alla letteratura, con i racconti di Bruto, eccetera, portando tutto, come abbiamo sentito, fino a, diciamo, un periodo prettamente fantastico. Era una figura molto particolare dal punto di vista umano e dal punto di vista abbastanza forte come carattere, forte come volontà decisa che si vede, diciamo, nelle sue tele. Quindi la forte umanità del personaggio la vediamo in questi piccolissimi, piccoli estratti di materiale di repertorio che abbiamo preparato per presentare il progetto che poi verrà girato il prossimo anno. Buona visione. Grazie. Il lavoro è prodotto da Human Reads e Max Mancov. Sivuple Immagini. C'è un terremoto e c'è fu delle crepe. E allora lui gli disse, allora guarda tu, tu falli di qualche giorno. E poi ci penso io a chiudere le crepe. Io gli disse Svaldo. Però Svaldo va su e dipingi, mi fa tutti e tutti. Ma il professore mi dice, perché non spieghi? Ococco! E dice, ococco, e se stiamo, ecco, per mesi, vengono capisci. Come, che te lo dico in parole povere? E quindi sono tutti gli astri. Vedo che si incrociano, che si incrociano su Arno e sulla Luna. Perché ricordati che sulla Luna ci si va. Gesù disse. Vedo? Io sono il 48 e c'è che sulla Luna ci si va. Che l'angelo ribelle era una cosa che mi rimaneva dentro la mia ignoranza. E mi dava dei disturbi di sapere, di chiarire. Perché lui dice che l'angelo ribelle è una cosa che la vedrete, la vedremo, l'abbiamo vista. Perché l'angelo ribelle c'è il suo motivo pratico, non è tanto complicato. La gente si ribella a Dio. Perché l'ingiustizia, c'è ingiustizia su questa terra. E' valso ieri, c'era ieri. Perché a tempo di Licini c'era ancora più ingiustizia di oggi. Oggi noi altri la vediamo l'ingiustizia che c'è, no? Il Licini pensa che l'angelo ribelle sarà una cosa che ce la imbareremo tutti, quello che significa. Fine. Applausi La parola, soltanto un secondo, per ringraziare tutti gli intervenuti. Massimo Raffaelli, Stefano Papetti, Daniela Simoni e il maestro Emilio Sgro. E l'ultima parola è semplicemente, come sempre, viva Licini. Grazie a tutti. Applausi No, perché è ridicolo, io e te non ci siamo mai sconti. Grazie a tutti.